Marco Chitarra è del Chitarra accompagnamento di Moduglio Paolo è di Bari e invece Vincenzo e Marco sono di Parise ci chiamiamo Don Muscles perché abbiamo voluto diciamo integrare nel nostro nome quello che è un po' il territorio quello di cui facciamo parte e poi le cose mi sono sempre piaciute noi sull'anno Raffi del Giro stasera faremo ascoltare solo inediti abbiamo anche una cover diciamo oltre a quella di Cindy Lupe se ci sarà tempo riusciremo a farvela ascoltare altrimenti vi bastano gli inediti comunque noi siamo la particolarità nostra che ci piace tanto scrivere siamo tutti e cinque autori infatti le canzoni potete vedere anche i testi sono ispirati un po' alla bosca d'autore a ciò che pensiamo di questo periodo che è l'adolescenza insomma rispetto in giovinezza niente adesso lascio le parole alla bosca niente sulle nostre vita e sulla nostra voce tutto l'amore nel mondo ragazzi lui è andato io volevo salutarvi ringraziare Giuseppe Antonacci che ha presentato con me questa serata ringraziare ancora tutta la giuria e noi ci vediamo la prossima settimana buon ascolto questo è un pezzo un pezzo strumentale è una piccola introduzione un pezzo strumentale per la giorni alterni è un pezzo strumentale sulle nostre Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.